Ciao papà Io dormivo da ore Sì, vabbè A me sembra che mi aspetti sempre Insieme, dentro casa e fuori Dopo l'autopsia ti dico meglio Ah, vabbè Finché non arriva lui No, scusa, qua non puoi entrare È un collega Collega pure, bravo Vabbè, dove vuoi sposar? Lui è il vice ispettore Soprani Lavorerà con noi Bello e sexy Praticamente una minaccia E dai un minuto? Per organizzarmi la serata Io la serata te la faccio passare in ospedale a te Arrivo tesoro E mia figlia sta in campana O te lo sta continuando a fissare Non mi pare No, infatti sta guardando me L'ha messa gli occhi su Alba Ci sta però con te Allora se parla con Alba io lo devo sapere Se guarda Alba io lo devo sapere Se pensa ad Alba io lo devo sapere E se gli iscrivono? Pure se gli iscrivono Nero a metà Questa sera alle 21 e 25 Rai 1